Siete pronti? Sono tornato da TuttoFood, quindi ho raccolto un po' di cose, un po' di toni, dagli amici Allora, facciamo questa pasta Pasta, questi fusilli lunghi, con piselli, seppie di ansio piccadillo giusto, bello aglio, poveroncino e sta squisitezza la pancetta sugherata, guardate che bella va, che profumo Allora, partiamo subito da che cosa? aglio fresco, buono, bello come piace a noi, come piace a noi guardate qua che roba, che spettacolo lo divido in metà, in due, così e lo metto qua poi, guardate qua, una novità qua parliamo di roba a livello mondiale di bontà frantoi crudera, siciliani buonissimo, eccezionale profumato senti che profumo, si sente il pomodoro si sente il pomodoro una cosa fantastica guardate qui, meraviglioso ma i piselli senza pancetta, come si fanno? e poi, la pancetta con la seppia sta bene sta benissimo Mario, guarda che ti mando fuori al terrazzo, eh allora qua eccezionale, così taglio sottile sottile guardate che bella, bella stagionata, sentite, guardate non quella roba cruda, vai, così così a pezzettini piccoli 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 aggiungiamola qui dentro insieme all'aglio nel frattempo pomodorino piccadillo sentite questo ritmo, questa musica ah, ma scusate che ne pensate? questo è il regalo, un regalino un regalino bello me l'ha pregato il cuoco del pastificio Graziano grazie, grazie adesso tagliettino qua sotto lo facciamo pelato il pomodoro, ok? quindi una piccola incisione sul fondo li buttiamo in acqua e dopo, contate finanziere insieme a me uno, due, tre, quattro e cinque sono pronti eccoli qua acqua fredda mentre la pancetta così diventa bella croccantina ma non i croccantini dei cani che facciamo? spello i pomodori Oddio non potete capire non potete capire Mario come è ridotto allora, per farlo sta buono allora levo l'aglio solo l'aglio eccolo qua buono, Mario? piselli piselli un goccetto d'acqua sentite la musichetta sta musica vado, Mario, ecco un attimo ah, vai amore, è buona la cioccolata? non devi sporcare tanto, eh? ahahahah che bontà guardate che belle queste seppiette taglio qua sul tagliere di plastica così che a me la fuma non mi sgrida metto solamente i tentacoli qua, sul fondo poi la testa li mettiamo dopo apriamo la pasta queste ci vogliono 15 minuti per cuocerla guardate che bella acqua salata, mi raccomando in piena ebollizione ne facciamo la metà piano piano aspettiamo che si ritrata un pochettino e poi la giriamo piano piano ecco qui e adesso dedichiamoci a i pomodorini li tagliamo a metà vai, così oddio avete visto tutto sporco di cioccolata per farlo sta buono allora, peperoncino poco perché la tazzina mangia pure lui mazza mi fanno questi coltelli oggi tagliano benissimo vado sei in musichetta vado poi seppie, le teste parliamo delle teste delle seppie che facciamo? le metteremo quando andiamo a mantecare la pasta quindi che facciamo sono talmente piccole le seppioline che le facciamo così sottili 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 quindi ci sarà la parte cotta e la parte questa qui che si leggermente riscalderà col calore della pasta ah mmmm aggiungo un po' di acqua ci siamo con la pasta è quasi pronta adesso abbiamo 2-3 minuti per farla bene insaporire qui dentro mettiamo i pomodorini guardate qui spettacolari guardate questa musica c'entra nel sangue vado un goccetto d'olio che ci sta sempre bene un po' di sale aggiungiamo un pochino di acqua che abbiamo ancora bisogno di un po' di tempo di cottura un paio di minuti quindi l'abbiamo tirata fuori a 10 minuti di cottura e ne facciamo altri 5 in padella buona così insapolisce che bontà è quasi pronta metto qui adesso le seppie crude tutte così e sentiamo adesso mamma mia e sta andando anche il ritmo non vi dico altro mamma mia che bontà che spettacolo che pasta che abbiamo fatto oggi ragazzi stupenda mamma mia che bello pronti? prendiamo il piatto eccolo qua adesso spengo tutto mamma mia ragazzi qua godi godi proprio ah che meraviglia allora assaggio se fa bene le sane mmm 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 un po' di olio siciliano di cutrera ecco qua che bontà e ora tocca a me ah mi sto sentin male non so che mi sto sentin male c'è un profumo di mare che dà le seppie questa pancetta sugherata che è una cosa una droga mmm una bontà mmm una bontà scusate ragazzi buonissimo buona l'olio tutto è tutto buono poi ci abbiamo avuto buono rifatela da bontà buona buona